Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi vi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Carocci dal titolo Lo latino è perpetuo, parole attuali di una lingua antica di Maurizio Trifone che abbiamo il grande piacere di avere il nostro gradito ospite e al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di questa perfezione latina. Prego professore, a lei. Grazie, grazie mille, ringrazio innanzitutto Maurizio Calì per questo invito, mi fa veramente piacere essere qui e fare questa chiacchierata, spiego innanzitutto il titolo del libro, Lo latino è perpetuo. Lo latino è perpetuo è una frase di Dante, è una frase tratta dal convivio, un'opera filosofica che Dante scrive all'inizio del Trecento, tra il 1304 e il 1307 e che rappresenta metaforicamente il banchetto del sapere, perché la parola convivio significa letteralmente banchetto e nel convivio Dante dice lo latino è perpetuo e non corruttibile, lo volgare invece è non stabile e corruttibile. Quindi all'epoca di Dante l'italiano era chiamato volgare, il termine italiano per riferirsi sia alla popolazione, sia alla lingua, riuscirà ad affermarsi definitivamente soltanto nel Cinquecento e prima di allora subisce la concorrenza di altri vocaboli tra cui lo stesso latino. Ad esempio nel Trecento un commentatore di Dante, Guido da Pisa, dice noi italiani siamo chiamati latini e lo stesso Dante nella commedia, a cui poi il boccaccio aggiungerà l'attributo di divina, nella divina commedia Dante chiama l'Italia la dolce terra latina e chiama gli italiani con l'appellativo di latini in quanto sono eredi della gloriosa stirpe di Roma. Ed è significativo che il primo grande vocabolario italiano, italiano e forse uno dei più grandi vocabolari europei, il vocabolario degli accademici della Grusca pubblicato nel 1612 ometta nel titolo proprio la parola italiano. Quindi in un paese come l'Italia, estremamente diviso, estremamente frammentato dal punto di vista amministrativo e politico era difficile trovare un nome etnicamente definito per designare quel volgare fiorentino che grazie alle opere di Dante, Petrarca e Boccaccio andava imponendosi sugli altri volgari d'Italia e andava assorgendo a rango di modello linguistico, di canone linguistico. Ecco rispetto al volgare, dice Dante, il latino è sovrano, cioè superiore e per nobiltà e per virtù e per bellezza, ma è accessibile soltanto a una ristretta cerchia di persona. E allora Dante vuole che il banchetto del sapere simboleggiato dal convivio sia imbandito non soltanto per le persone dot che conoscono il latino, ma sia imbandito per tutte quelle persone che desiderano sedere alla mensa, dice Dante, dove lo pane degli angeli si manuca, cioè dove si mangia il pane degli angeli, dove ci si nutre di sapere. E allora il volgare diventa la lingua del convivio, in quanto lingua aperta a un vasto pubblico e così nasce il primo trattato filosofico in italiano. Il volgare sarà poi, come sappiamo, la lingua della commedia che Dante stesso definisce il poema sacro al quale a posto mano è cielo e terra, cioè il poema sacro alla cui composizione hanno contribuito il cielo, cioè la scienza divina, la teologia e la terra, cioè l'esperienza terrena nelle sue alterne vicende. E dalle parole di Dante lo latino è perpetuo traspare il senso di immortalità della lingua latina e questo senso di immortalità appare invece in contrasto con l'opinione comune secondo cui il latino è una lingua morta. Ma si dimentica che l'italiano non è altro che il latino del ventunesimo secolo, nel senso che continua il latino attraverso un processo lento, graduale, ininterrotto, che ha portato le diverse vaghetà linguistiche latine parlate nel vastissimo territorio del mondo romano a evolversi nelle lingue neolatine, in quelle lingue che vengono chiamate lingue romanze dall'espressione latina romanice loqui, parlare alla maniera dei romani. Ecco nel mio libro, lo latino è perpetuo, ho cercato di ripercorrere la storia di molte parole ed espressioni di origine latina in un ideale viaggio tra passato e presente e quindi andare a ritroso nel tempo a ricercare l'intimo significato delle parole può portarci a scoperte inaspettate, a volte a scoperte sorprendenti e può permetterci di collegare parole che a prima vista sembrerebbero non avere nulla in comune. Che cosa lega ad esempio parole come furto, furetto o foruncolo? Apparentemente nulla, il furto è un'azione criminosa, il furetto è un animale simile alla puzzola, il foruncolo è l'infiammazione di un follicolo perifero, ebbene queste tre parole hanno alla base la stessa voce latina, il latino fur furis, cioè ladro. Il furto è l'azione del fur, è l'azione del ladro, è l'azione commessa da chi ruba. Il furetto, il latino volgare furittum, che voleva dire ladrumpolo, quindi diminutivo di fur furis, ladro, è quell'animale che ruba i conigli selvatici, nel senso che è possibile a stanarli, a scovarli nella loro tana, a cacciarli. Infatti il furetto veniva domesticato per la caccia al coniglio selvatico. E il foruncolo, il termine foruncolo deriva dal latino furunculus, altro diminutivo di fur furis, altra parola che significava ladrumpolo, e inizialmente era un termine del lessico agricolo e indicava il tralcio della vite che ruba la linfa al ramo principale e quindi determina la formazione di un'escrescenza. Quindi il termine poi è passato a indicare l'escrescenza che si forma sulla vita e quindi il significato poi di foruncolo. E questo latino fur furis, ladro, che fine ha fatto? Beh, è stato soppiantato dal latino latro, latronis, che inizialmente indicava un particolare tipo di ladro, il ladro di strada, il brigante, e dall'accusativo latronem è derivato l'italiano ladrone, parola oggi di uso poco comune, rimasta viva in alcune espressioni ormai cristallizzate come i due ladroni, i due malfattori che secondo il racconto evangelico furono procetissi accanto a Gesù e il buon ladrone è quello dei due che si convertì, che si pentì e quindi fu redento da Gesù. Oppure Alibaba e i quaranta ladroni, la celebre storia inclusa nella raccolta di novelle orientali, Le mille e una notte. Ma la cosa interessante è che la parola ladrone è stata interpretata dai parlanti come un accrescitivo a causa della terminazione one. Così come librone è l'accrescitivo di libro, si è pensato che il ladrone fosse l'accrescitivo di ladro e quindi da questa parola ladrone è stata ricavata una presunta forma base non alterata, appunto il nome ladro. Quindi ladrone è la parola di base e ladro è il derivato conteriamente a quello che potremmo pensare. E questo particolare processo di formazione si chiama retroformazione perché segue un percorso inverso a quello abituale. Una parola ladro è stata ricavata da un'altra parola ladrone che sembrerebbe essere il derivato, sembrerebbe essere l'accrescitivo, ma che in realtà rappresenta la parola di base. Un altro esempio di retroformazione è il verbo candidare, che è stato ricavato da candidato. Noi potremmo pensare che candidato è il participio passato di candidare, invece no. Candidato è la parola di base e proviene dal latino candidatus, vestito di bianco, vestito di candido, perché nell'antica Roma chi presentava la propria candidatura a una carica pubblica indossava una toga bianca. Che cosa hanno in comune ad esempio parole come alto, come alimento o come alunno? Ebbene, queste parole hanno alla base lo stesso verbo latino, il latino alere, nutrire. Chi è alto è stato nutrito, cioè è cresciuto in altezza. Ed è significativo che questo latino alto sia passato, il latino altum, participo passato del verbo alere, sia passato anche nelle lingue germaniche, ma con una diversa evoluzione semantica, in quanto il concetto della crescita è stato associato non all'altezza, ma all'età inglese old, vecchio, cioè cresciuto relativamente agli anni di età. E dal latino alere, nutrire, deriva il sostantivo alimentum, ciò di cui ci si nutre, appunto da cui poi abbiamo la parola alimento. E Dante nella Divina Commedia usa questa parola alimento per indicare quella parte del corpo, l'ombelico, da cui traiamo alimento, da cui traiamo nutrimento quando siamo ancora nel grembo materno e quindi dobbiamo ancora nascere. E dal verbo alere, nutrire, deriva la parola alumnus, da cui l'italiano alunno, che inizialmente voleva dire figlio, in quanto è stato nutrito dai genitori, e poi ha assunto il significato di allievo, di scolaro. Lo scolaro è nutrito spiritualmente, è nutrito culturalmente, intellettualmente, grazie alle cure dell'insegnante, grazie alle cure del maestro, e quindi cresce sul piano dell'istruzione e sul piano della cultura. E da questo verbo alere, nutrire, si forma il verbo adolescere, crescere, che ha come participio presente adolescentem e come participio passato adultum. Da adolescentem deriva il nostro adolescente, che letteralmente significa colui che sta crescendo, quindi chi è nell'età compresa tra la fanciulezza e l'età matura. E Dante dice che l'adolescente entra nella selva erronea della vita, cioè si appresta a percorrere le strade tortuose e ingannevoli della vita e si allontanerebbe facilmente dalla retta via se non avesse una guida esperta e matura che gli indicasse il cammino da seguire. E dal participio passato adultum deriva la parola italiana adulto, che letteralmente significa colui che è cresciuto e quindi colui che ha raggiunto il completo sviluppo fisico e psichico. Quindi nelle parole italiane che fanno capo al verbo latino adere, nutrire, la nozione della crescita è interpretata in tre modi diversi. Nel caso di alto la crescita è in nel caso di alunno la crescita è sul piano spirituale, culturale, intellettuale. Nel caso di adolescente e adulto la crescita invece è relativamente all'età. E due parole che sembrerebbero completamente distanti semanticamente e che sembrerebbero non avere nulla in comune sono le parole cristiano e cretino. Ecco, la storia di un vocabolo religioso come cristiano si intreccia con quella di un insulto come cretino. Il latino cristianus, seguace di Cristo, seguace della religione di Cristo, ha alla base il greco cristos, dal verbo criein, ungere. Cristo è l'unto, è il consacrato del Signore. E l'italiano cristiano, oltre al significato religioso, ha anche quello di più generico di essere umano. Nel linguaggio familiare si può sentire una frase come non è questo il modo di trattare un cristiano, non è questo il modo di trattare un essere umano. Il latino cristianus entra in francese, dove diventa cretian, con la variante creten diffusa in un dialetto della Svizzera. Nelle vallate alpine della Svizzera romanza la mancanza di iodio nelle acque causa una malattia, un particolare sindrome da insufficienza tiroidea caratterizzata da un ritardo nello sviluppo mentale e fisico. E la grande diffusione di questa malattia ha fatto sì che il termine creten passasse a indicare con un senso però eufemistico, con un senso di pietà, di commiserazione, di compassione, queste povere persone affette da questa malattia. Come dire dei poveri cristiani, dei poveri cristi, dei poveri uomini. Quindi non c'era nella parola nulla di offensivo, c'era anzi un senso di umanità, di pietà, di compassione. Dalle vallate alpine il termine creten entra nella terminologia medica francese intorno alla metà del Settecento e dà vita al derivato cretinismo, appunto la malattia. I due termini francesi creten e cretinismo entrano in italiano nel linguaggio medico, siamo nella seconda metà del Settecento e diventano cretino e cretinismo. Quindi il termine cretino inizialmente indicava una patologia, una malattia senza nessuna valenza offensiva, ma ben presto passa nella lingua comune come titolo di ingiuria e va ad infoltire la già nutrita schiera di insulti con cui si offende qualcuno per le sue limitate doti intellettuali. Quindi il valore offensivo di cretino non si ricollega al significato religioso, ma si ricollega al significato medico, contrariamente a quanto credevano alcuni etimologi del passato. Ad esempio nell'Ottocento Marco Aurelio Marchi, in un suo dizionario etimologico, dice che i cretini sono le persone cristiane talmente religiose, talmente pie, da essere assorte nella contemplazione delle cose celesti. E questa ipotesi etimologica completamente sbagliata è ripresa del primo novecento anche da un famoso vocabolario, oggi consultabile online, il vocabolario di Ottorino Pianigiani, pubblicato nel 1906. E proprio per evitare il disagio derivante dall'accostamento tra un vocabolo religioso come cristiano e un vocabolo offensivo come cretino, sono state avanzate altre proposte etimologiche che oggi sono completamente rigettate. Ad esempio il fatto che il francese cretin derivasse dal latino creta, la creta, con riferimento al colorito biancastro della pelle di queste persone affette da questa malattia, oppure che la parola cretino non fosse un prestito dal francese, ma fosse un prestito dal tedesco creideling, derivato di creide, creta, sempre con riferimento al colorito biancastro. In realtà queste etimologie sono erronee perché noi abbiamo avuto due passaggi semantici, dal senso religioso di cristiano come povero Cristo, povero uomo, siamo passati al significato medico di persona affetto da ipotiroidismo e dal significato medico siamo poi passati all'insulto, al valore offensivo di persona poco intelligente. Quindi il valore offensivo del termine cretino non si ricollega al senso religioso di cristiano, ma si ricollega all'accezione medica e quindi ha seguito la trafila di molti termini medici che dal campo scientifico sono passati poi alla lingua comune e hanno acquisito il valore di un insulto. Ecco, io penso che questi pochi esempi siano già sufficienti a dimostrare come la lingua latina sia una componente essenziale, insostituibile della nostra identità culturale e linguistica. Quindi dobbiamo cercare di trasmettere alle giovani generazioni come l'idea che il latino non è morto perché molto del latino vive ancora dentro di noi, vive ancora nella nostra lingua e nella nostra cultura. Mi fermo qui. È davvero interessantissimo perché c'è una forte attualità in tutto questo argomento che è un argomento che riguarda le radici e quindi quello di cui tutti parlano, soprattutto i politici che le usano come clave e che riguarda anche il linguaggio. Quindi due cose che ci appartengono completamente e che sono insospettabili se non si compra questo libro e non lo si legge con grande attenzione. Grazie. Per cui io come sempre non posso che ricordarne il titolo in modo che possano correre tutti in libreria dopo questa affascinante presentazione e il titolo è Lo latino è perpetuo. Parole attuali di una lingua antica di Maurizio Trifone pubblicato da pochissimo da Caroci acquistatelo perché sarà una scoperta pagina dopo pagina così come ce l'ha presentato il suo autore. Grazie tantissimo. Grazie a lei mi ha fatto veramente piacere fare questa chiacchierata insieme con voi. E a tutti i nostri video ascoltatori io ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove oltre a questa troveranno tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi. Quindi alla prossima. Grazie, grazie mille. Arrivederci. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.